È una squadra fortemente politica, così come avevamo proposto e detto in campagna elettorale, perché la nostra è una coalizione identitaria e politica e credo anche nel rapporto tra ente, amministrazione e parte politica. La vice sindaca, così come dichiarato in campagna elettorale, sarà Federica Petti e si occuperà di istruzione, cultura e politiche di genere, Lorenzo Ballerini al sociale, casa, immigrazione e lavoro. Poi abbiamo Davide Baldazzi allo sport, Tommaso Landi ai lavori pubblici, gestione del verde e protezione civile. Poi abbiamo Daniele Matteini allo sviluppo economico, mobilità e trasporto pubblico locale. Abbiamo Simona Pizziruzzo alla partecipazione, beni comuni e gemellaggi. Giulia della Giovan Paola, che invece si occuperà appunto di bilancio, società partecipate e amministrazione trasparente. E poi per quanto riguarda me mi tengo le deleghe di urbanistica, risorse umane e polizia municipale. Queste quattro le liste che la sostenevano sono state soddisfatte? Sì, diciamo che abbiamo fatto una giunta politica, era una coalizione che ha avuto una risultanza simile alle liste e quindi abbiamo provato a rappresentare tutta la coalizione in giunta. Ripeto che comunque si tratta di persone che comunque hanno naturalmente delle competenze professionali e soprattutto una conoscenza del territorio, una presenza del territorio tale da ricoprire i ruoli per cui sono stati scelti. In queste due settimane di inizio del suo mandato ha già individuato delle priorità per i prossimi passi, a breve o a medio termine? Sì, naturalmente come promesso in campagna elettorale sposteremo gli uffici del sindaco a Palazzo Dante entro il mese di settembre. Ho già fatto degli incontri con i tecnici per fare alcuni cambiamenti nel servizio edilizia privata e per l'adozione del piano operativo in tempi brevi. Mi sono già messo a lavoro per rivedere il tratto tramviario, il capolinea tramviario della tramvia e ho già preso contatti per realizzare il trasporto pubblico gratuito per i ragazzi alle 14 a 19 anni. Oggi si insedia ufficialmente con il Consiglio Comunale. C'è una parola d'ordine che lancerà per i prossimi cinque anni di mandato in apertura d'assemblea? Sì, facce nuove a Campi Bisenzio. Questo insomma è il cambiamento, è quello per cui ci hanno eletti, per cui ci hanno dato fiducia i cittadini e quindi come promesso in campagna elettorale oggi è un primo passo. Poi appunto abbiamo parlato di facce nuove, programmi nuovi, metodi di governi nuovi e quindi insomma per quanto riguarda il programma naturalmente sarà il nostro programma in forte discontinuità con l'amministrazione precedente, volti nuovi lo vediamo stamattina e metodi di governi nuovi direi uno fra tutti la presidenza del Consiglio che sarà data all'opposizione.